bella vai ragazzi prima domenica siamo usciti in 4 5 sempre a debita a distanza ora punzecchiamo andiamo a punzecchiare padritti eh? mi sono divertito siamo rilassati nooo nooo bello eh? tutte le battudine molto bene bello 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 oggi esplorazione se la ripuliamo vediamo un po' dove va questo è un'alternativa qui non è proponibile invece per me è più facile e allora c'è come prendere un piccolo no c'è da fornare lì è un scavatore no c'è da fornare lì no c'è da fornare lì buttati buttati che morbido no c'è da fornare lì no c'è da fornare lì non c'è da fornare lì allora c'è da fornare anche il non vediamo ma è un tronco adesso vado a casa prendo i bimbi e me li porto su in montagna mi fermati mickey passa avanti marghi adesso seguire ehi quando vedi quell'altro fermatevi è questa è tutta discesa quindi attenzione dai vai marghi vai mickey attenzione guardare sempre avanti eccoci guarda avanti un po in piedi se discesa bravo bravissimo vai marghi riprova sono giganti vanno bene pronti vai in piedi quando sei lì non pedalare basta basta brava ma che brava brava piccola grazie